è tutta serrata tranne nel punto dove c'è il perno mancante la guarnizione se provi a muoverla è stabile e la parte interna è a contatto una flangia con l'altra ok solo un attimo no negative they are very very thin i think that the head of the bolts will pass through the hole ok 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 marco continua ok ricevuto vi mandiamo adesso la bombola con un primo stadio con la frusta di bassa così potete mettere in pressione il tavolino attendete istruzioni quando avete la bombola sul fondo passo ok Chris we are sending down the cylinder with the first stage and the low pressure hose but just wait for more instruction when you take the cylinder down with you ok 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 Tokyo ok ok Mario ok credo che i botti che hai nella tua handa sì è la grande è un pezzo di... provo a provare a prendere il nodo probabilmente sarà in un altro che mi ha venduto prima ok, potete provare assolutamente